Sono Gianluca Cocco, sono il direttore del servizio SAVI della Regione Sardegna. Il servizio SAVI è il servizio sostenibilità ambientale, valutazione di impatti e sistemi informativi ambientali. Il servizio SAVI si occupa di valutazione di impatti ambientali, energia e diverse altre cose, tra le quali, non ultima, c'è la sostenibilità ambientale. La Regione Sardegna crede molto in questo tema e se ne occupa almeno dal 2007, in maniera continuativa e fattiva. È importante spiegare perché ci siamo occupati di questo tema. Il potere d'acquisto della pubblica amministrazione è altissimo. Una media europea dice che è all'incirca poco meno del quinto del prodotto interno lordo dei singoli stati e in Italia siamo su quella cifra. Quindi si capisce perfettamente quanto la pubblica amministrazione sia in grado di influenzare con le sue politiche di acquisto il mercato sul tema della sostenibilità. Lo facciamo attraverso una sorta di mix tra un arrembaggio verso le pubbliche amministrazioni e verso le imprese e un'azione di accompagnamento, diciamo un'azione di spinta gentile. Si tratta, sintetizzando, di ridurre l'impronta ecologica delle pubbliche amministrazioni, in genere di tutti i cittadini, ma in questo caso noi ci rivolgiamo in particolare alle pubbliche amministrazioni e poi di riflesso a tutte le imprese. Ridurre l'impronta ecologica vuol dire occuparsi di acquisti sostenibili e quindi tenere conto in tutti gli acquisti delle PA dell'intero ciclo di vita di ciò che si compra e non solo del prezzo iniziale. Quindi utilizzare materiali che sono sostenibili, il cui riciclo sarà sostenibile, occuparsi di efficienza energetica, occuparsi di eliminare gli sprechi in tema ambientale. Tutto questo è GPP. La regione lo ha fatto con una politica che in particolare nel 2009 ha visto uscire, emendare il piano per gli acquisti pubblici ecologici, quello che si chiama Papers, all'interno del quale ci sono declinati in maniera molto precisa una serie di obiettivi che la regione Sardegna si è data, cioè raggiungere il 50% degli acquisti della pubblica amministrazione di beni, servizi e lavori che tengano conto dei criteri verdi, raggiungere il 50% dei comuni della regione, degli enti pubblici della regione e il 30% degli enti. Sono obiettivi molto ambiziosi, per cui ci si è dati un tempo, un cronoprogramma, ci siamo adottati di un budget molto preciso e la regione sta investendo molto in queste tematiche, oltre 3 milioni di euro. Abbiamo individuato le persone che dovranno raggiungere questi obiettivi e li abbiamo declinati in attività. Un altro passaggio importante che la regione ha fatto è che ci siamo adottati di un'assistenza tecnica per tre anni. Questa assistenza tecnica accompagnerà la regione stessa e tutti i comuni e le pubbliche amministrazioni nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. Attraverso collaborazione con le province abbiamo aperto un ecosportello in ogni provincia in maniera tale che tutti, sia cittadini, privati cittadini, sia le imprese in particolare, si possano rivolgere agli ecosportelli per avere indicazioni sul tema della sostenibilità ambientale e sui bandi verdi delle pubbliche amministrazioni. Abbiamo poi organizzato una serie di seminari e incontri e convegni sul tema della sostenibilità. I seminari sono stati 24 e sono stati molto seguiti. Per quanto poi c'è da specificare che le imprese sarde stanno faticando a avvicinarsi al tema della sostenibilità. E questo è un rischio perché poi imprese che non vengono necessariamente dalla Sardegna saranno le prime invece a avvicinarsi a questo mercato che è in continua e futura espansione. Questa espansione è obbligatoria, necessaria e ribadita anche dalla strategia europea dell'Europa 2020 che spinge proprio sull'innovazione e sulla competitività delle imprese. Vorrei lanciare un messaggio alle imprese sarde, che è quello di andare verso la direzione decisa delle tematiche verdi, delle tematiche sostenibili, perché la pubblica amministrazione in futuro questo è ciò che deve fare, in linea con le tematiche europee di Europa 2020 sull'innovazione, sulla competitività e sostenibilità ambientale. Quindi questa è un'esortazione alle imprese sarde a investire su questi temi, perché questo è ciò che farà la pubblica amministrazione in futuro, perché è necessario.